Oggi siamo con Ippolito Bassani, cofondatore e amministratore di Urmoma. Urmoma, che ha il suo quartier generale a Roma e da un paio d'anni ha aperto anche una filiale commerciale in Lombardia, è uno dei principali distributori nazionali di materiali e di display per la comunicazione visiva e per l'allestimento. Buongiorno Ippolito e grazie per aver accettato il nostro invito. Vabbè, anzitutto mi fa piacere chiederti come stai tu, come sta la tua famiglia, come sta tutta la squadra di Urmoma. Fortunatamente stiamo tutti bene, l'evento virologico non ha avuto modo di colpire nessuno di noi, né la mia famiglia, né i miei collaboratori, né quelli che conosciamo e siamo tranquilli e fiduciosi da questo punto di vista. In che modo avete adattato la vostra operatività in questi mesi? Ricordo che una delle caratteristiche, delle peculiarità della vostra azienda è proprio questo spazio, il cash and carry in cui avete un contatto diretto, un'interazione diretta con i vostri clienti finali, centinaia di operatori, centinaia di aziende che ogni giorno vengono fisicamente in Urmoma per approvvigionarsi dei loro prodotti. Hai ragione, è stato un po' una cosa abbastanza innovativa, ci siamo trovati a rivoluzionare tutto il nostro spazio e quindi non abbiamo fatto più entrare i clienti dentro lo showroom per rispetto sia dei nostri collaboratori sia dei clienti, tutti distanziati bene secondo le norme mandate dalle autorità e diciamo abbiamo praticamente messo tutto in sicurezza. Poi chiaramente abbiamo anche noi avuto diciamo queste, come si può dire, novità del mercato che cercavano questi prodotti innovativi che abbiamo fatto tipo questi schermi in plexiglass che abbiamo sfruttato diciamo il momento che li chiedevano. Ecco in effetti molti operatori del nostro settore, stampatori, allestitori, tutte quelle aziende che detengono e padroneggiano le tecnologie sia per la stampa ma anche per la lavorazione, per il taglio, per la fresatura dei materiali hanno un po' diciamo reinventato il proprio modo di stare sul mercato, il proprio modo di operare quindi meno materiale pubblicitario, meno per ovvi motivi, meno stand, meno allestimenti di punti vendita però ecco più dispositivi di protezione personale, mascherine, schermi. Ecco quindi voi avete da un lato realizzato voi stessi questi manufatti e dall'altro avete fornito i materiali agli operatori per realizzarli a loro volta? Sì, abbiamo supportato il mercato con i materiali plastici nostri che vendiamo da sempre e nello stesso tempo abbiamo prodotto proprio noi questi schermi, queste basi in alluminio separatori con della plastica trasparente in mezzo per poter separare le persone e per cercare di rispettare le norme che erano state dette ma poi tanti clienti nostri hanno fatto la stessa cosa, la stessa identica nostra valutazione e quindi anche loro hanno fatto queste mascherine diciamo trasparenti, tanti hanno fatto proprio le mascherine quelle normali che costano così di tessuto, sì cioè diciamo c'è stata da parte, c'era un cliente che faceva i separe per i taxi bello pure quello, è stata una bella idea perché non ci potrà stare contatto tra il tassista e l'utente insomma c'è stato tantissimo fervore da parte dei nostri clienti a cercare di trovare soluzioni contro questo virus in tutte le maniere e anche noi ci abbiamo messo del nostro insomma cercando con i nostri macchinari, con la nostra esperienza nell'alluminio i nostri display trasformarli in qualcosa che erano invece dei separe tra le persone di modo che si criasse la giusta distanza di sicurezza che è richiesta dalla normativa insomma, ecco questo è il discorso quindi questo investimento in macchinari che ricordo avete fatto negli ultimi anni decisamente rilevante in macchine da fresatura, in sistemi laser che avete tutti certificato poi per l'industria 4.0 si sono rivelati più che mai utili in questo frangente li avete messi a dura prova? Sì, mentre da una parte spariva tutto il nostro lavoro normale che facciamo tutti i giorni nella comunicazione visiva dall'altra parte questi macchinari ci hanno permesso di lavorare nel settore anti-covid e quindi con questi macchinari abbiamo fatto porta dispenser, schermi lastre trasparenti che si tenevano e che separavano abbiamo fatto proprio un vero e proprio catalogo anti-covid e per fortuna con l'uso di questi macchinari se no non era possibile, ecco insomma non sarebbe stato possibile senza avere questi macchinari supportare tutta questa mole di lavoro che c'è stata per combattere il virus a livello di separazione non mi viene la parola ma è la separazione fra le persone il social distancing come lo chiamano però ci piacciono gli inglesismi quindi utilizziamo dato che in questo periodo siete sempre rimasti aperti e operativi anche se immagino a ranghi ridotti non avete mai smesso quindi di interagire con i vostri clienti finali di parlare con loro, di dialogare con loro di offrire loro consulenza sulle tipologie di materiali da utilizzare ecco come stanno queste aziende? che tipo di riscontri vi hanno dato al di là della prima fase quella di emergenza, quella più acuta cosa è successo poi nelle ultime settimane? ora come stanno reagendo queste aziende? ma molto bene vedo che sta ritornando molto lavoro di prima quindi come c'è stata la possibilità anche durante l'evento ci sono state tantissime aziende che si sono riconvertite in questi prodotti anti-covid ma adesso sta proprio partendo tutto il mercato lo vediamo tutti i giorni che c'è tanta gente di nuovo nello showroom abbiamo fatto tutta una separazione fatta ad hoc dove noi non siamo più a contatto con i clienti neanche i nostri collaboratori però c'è tantissimo pur avendo questa famosa distanza sociale che dici te c'è tanta gente e vedo che sono impegnati al ritorno alla normalità quindi stanno facendo tanti lavori quindi per i loro clienti quindi vedo che il mercato dell'utente finale non del nostro cliente dell'utente finale si sta ripartendo bene lo vedete dal tipo di materiali che queste aziende stanno acquistando quindi si sono riaperti all'acquisto di una varietà di substrati di prodotti di materiali rigidi di materiali flessibili sì 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 anche cassonetti per insegne luminose quindi c'è chi già sta prevedendo il futuro questa cosa qua mi fa molto diciamo piacere perché si è rimessa in moto la catena ecco questo è il discorso che soprattutto diciamo mi preoccupava un po' pensando che forse sarebbe ripartito a settembre dopo le vacanze e invece ho visto che come le autorità hanno dato la disponibilità a muoversi si sono tutti diciamo attivati a a produrre ecco e anche a anche i ristoratori bar stanno tutti stanno tutti iniziando a cercare di mandare avanti capito la produzione parlavi del vostro showroom che è uno dei luoghi in cui i vostri clienti finali incontrano e ormoma e toccano con mano i prodotti quelli esistenti e quelli e quelli nuovi ma non è l'unico modo che la vostra azienda ha di presentare le novità di presentare i prodotti storicamente vi siete sempre mossi in modo molto attivo per esempio a livello di eventi di eventi aziendali ce n'era uno programmato per questa primavera a cui tra l'altro avrei dovuto e voluto partecipare che purtroppo avete dovuto rimandare e poi cancellare spero lo riprogrammerete presto e ne fate ne fate abitualmente anche più di uno l'anno e poi ci sono le fiere voi fate sempre insomma il viscom fate fiere nel settore del promozionale fiere nel settore dell'hotellerie dell'oreca ecco come è cambiato e come pensi che cambierà il modo di presentare i prodotti nel prossimo futuro ma diciamo che per il momento non abbiamo cambiato linea sotto la partecipazione alle fiere e fare i nostri eventi sicuramente aggiungeremo in più molto più diciamo media a livello di internet di email di social queste cose qua sicuramente sarà una nuova aggiunta a già ciò che facevamo prima e poi c'è il vostro catalogo il vostro catalogo che i miei gioielli è una ormai una pietra miliare per il nostro settore oserei dire che non c'è praticamente un solo stampatore digitale da cui mi sia capitato di entrare che non ne avesse una copia una copia in ufficio una copia in produzione ecco è di fatto uno strumento che queste aziende utilizzano per fare delle scelte di carattere appunto materico strutturale per poi realizzare i propri progetti quanto il catalogo si è rivelato uno strumento ancora forse più utile in questo periodo e quanto secondo te nel futuro lo resterà o lo diventerà ancora di più sì sì sicuramente ecco la novità proprio di questo evento tragico che c'è stato in questi mesi è stato il catalogo i clienti hanno capito che era un'opportunità di lavoro quindi hanno trasformato i display in questi separatori attraverso il catalogo da lì hanno preso lo spunto ecco quello che vorrei trasformare il catalogo è proprio in questo cioè il catalogo non deve essere visto come qualcosa io copio e acquisto quello visto che siamo proprio noi che produciamo quegli articoli tanti di quegli articoli su quel catalogo io vorrei ma è già successo praticamente con questa con questo evento che c'è stato in questi mesi cioè i clienti hanno preso spunto da alcuni articoli del catalogo e l'hanno trasformati facendone l'uso che a loro serviva questo è stato molto bello come aspetto generale quindi il catalogo che cos'è è praticamente un libro da sfogliare e prendere idee e queste idee verranno trasformate e messe in opera sia da noi sia da noi e il nostro cliente insieme perché poi è questo è questo scambio praticamente di idee fatti capito che ti porta ad avere a risolvere la situazione quindi sempre più il catalogo dei miei gioielli come il catalogo dell'IKEA meno prodotti referenze prezzi e più ambientazioni idee ispirazione da copiare da tirare fuori da capitalizzare sì sì sicuramente è questo cioè il cliente non deve copiare quello che sta non deve vedere e acquistare cioè deve anche fare questo quando gli fa comodo giustamente ma deve anche in caso non trova la sua soluzione inventarla attraverso ciò che già c'è sul catalogo e quindi modificando visto che ne abbiamo la possibilità visto che produciamo proprio noi attraverso le idee del cliente e attraverso la nostra manifattura trovare la soluzione giusta hai detto affermato che la la pandemia ha in una in una qualche misura in forte misura condizionato le decisioni d'acquisto dei clienti se non altro rispetto al tipo di materiali di cui approvvigionarsi secondo te quali saranno le leve invece che muoveranno gli acquisti dei clienti gli investimenti dei clienti da qui nel prossimo futuro parlo di materiali ma parlo anche di tecnologia tecnologia di stampa tecnologia di finitura di taglio tecnologie per realizzare lavorazioni accessorie beh spero vivamente che si torni prima possibile alla situazione pre-covid e quindi i materiali tutti e addirittura inventarne altri nuovi per per gli investimenti a livello di macchinari chiaramente vedere sempre queste tecnologie che vanno avanti soprattutto nella sostenibilità anche per tutto il settore ecco questo è quello che penso quindi spero vivamente che si ritorni quanto prima alla situazione preesistente dove c'era la ricerca continua e innovativa sia dei materiali che dei prodotti e sia anche dei macchinari che più sta erano diciamo erano e sono diciamo più facili da usare ma anche più intuitivi più veloci più anche più leggeri ho visto che ultimamente i macchinari più sta e meno occupano spazio rispetto ai primi di una quindicina di anni fa non so se ci hai fatto caso anche te sono sempre meno ingombranti insomma sì sicuramente è una delle tendenze verso una maggiore ergonomia e poi a parità di ingombro la tecnologia tende a performare molto di più questo ce lo insegnano anche gli smartphone o i personal computer e lo stesso succede anche sicuramente nel campo delle stampanti o nel campo delle macchine da fresatura nelle macchine per diciamo finishing e lavorazioni varie oggi ma con una singola unità si può produrre molto molto di più il doppio il triplo 5-10 volte in più rispetto a quello che poteva accadere solo 5 anni fa 10 anni fa e la qualità migliora sempre tra l'altro la qualità è molto migliore di 10 anni fa insomma ecco lo è lo è di fatto e per questo in che modo per esempio si riflette sulla sull'acquisto del del materiale in che modo voi siete stati coinvolti in questo accrescimento qualitativo in che modo i vostri stessi fornitori sono stati coinvolti in questo accrescimento qualitativo costante che ha ancora probabilmente spazio di miglioramento per il futuro sì assolutamente i fornitori chiaramente tanti ormai hanno acquistato anche loro dei macchinari che hanno al proprio interno della produzione e fanno test per la stampa soprattutto in piano ma anche roll to roll fanno proprio i test loro all'interno prima di mandare fuori un prodotto mentre tanti anni fa una decina di anni fa diciamo era un po' snobbata questa cosa questa stampa diciamo così digitale in piano ancora si andava si faceva il materiale perché attaccasse le pellicole del plotter da taglio questo era e ora quasi tutti i nostri fornitori hanno al loro interno macchinari test o fanno fare anche all'esterno quando certificano i prodotti li fanno fare dei test a produttori di macchinari questo è sicuramente quindi c'è molto molta più importanza alla macchina e il materiale adesso viene fatto in corrispondenza in funzione della stampabilità anche tra gli altri criteri c'è anche la sua la sua stampabilità il fatto che possa riprodurre l'immagine in modo più efficace si fai conto per dire parliamo materiale il pvc espanso che è molto utilizzato nei paesi del centro nord Europa nel settore anche dell'edilizia o di queste cose qua però anche chi produce questo materiale adesso ha la macchina digitale dentro e controlla se quel materiale è performante per quei macchinari giustamente per fortuna per fortuna quindi significa che il nostro settore è diventato importante anche per i produttori generi cioè chi produce le plastiche poi non è che sta proprio a pensare alla nicchia di quelli della stampa digitale o almeno prima non ci pensava adesso ci sta pensando prima non c'era tutta questa diciamo non mi viene la parola accortezza ma non è la parola accortezza Ippolito parlando proprio di materiali e parlando di materiali plastici nello specifico nel nostro settore come nella maggior parte degli altri settori dell'industria in cui sono coinvolti i consumatori la tendenza è quella di cercare sempre di più materiali alternativi alla plastica chiaramente sulla base di una maggiore attenzione all'ambiente della necessità del desiderio di ridurre la quantità di materiale da smaltire da riciclare ecco come la vedi questa questa tendenza da convertitore da distributore di questa questa tipologia di prodotti ma partiamo da dal principio intanto il nostro settore non non utilizza la plastica in maniera usa e getta quindi noi siamo esclusi da tutta questa diciamo campagna che c'è nei confronti della cosiddetta plastica ma è molto rivolta al packaging usa e getta monouso quindi monouso monouso quindi noi già siamo esclusi da questa cosa qua perché noi quando facciamo un'insegna luminosa in plexiglass che dura oltre dieci anni diciamo ecco abbiamo tante cose che durano anche svariati anni senza grossi problemi queste cose qua poi la plastica è comunque l'ultima materia prima inventata dall'uomo che ha rivoluzionato la nostra società negli ultimi 70 80 anni molto adesso ne stiamo facendo un uso massiccio ma l'uso massiccio è giustificato anche dalle catene alimentari adesso compriamo che so l'insalata dentro vaschette di plastica che sono iper igieniche non è detto che un altro materiale fosse sarebbe stato così igienico come la plastica certo poi quella vaschetta in plastica che andrebbe gettata deve essere gettata in una maniera che venga subito riciclata ecco creare una catena giusta penso questo la plastica per me ha un grosso difetto costa troppo poco è assurdo ma è così se fosse stato oro nessuno la buttava in mare nei fiumi nelle cose no se fosse stato oro argento qualsiasi cosa insomma la buttiamo perché perché costa poco ma se se noi esseri umani capiamo che non deve essere buttata così ma deve essere diciamo riportata a di nuovo alla fonte per essere di nuovo fusa e fatta nuova plastica sicuramente non ci sarebbe tutto questo problema ecco questo è quello che penso personalmente in generale quindi per quanto riguarda proprio i vostri vostri clienti ancora non c'è un trend sostenuto di domanda di materiali alternativi tutto sommato chi sviluppa prodotti durevoli materiali per la comunicazione durevoli tende ancora a utilizzare serenamente la plastica quindi per voi non c'è stato un particolare diciamo cambio di dinamica e cambio della domanda no guarda la domanda di prodotti no plastica no pvc come li chiamano chiaramente ci sono da parte delle grossissime aziende che hanno cosiddetta visualità cioè hanno bisogno sul mercato di farsi vedere in una certa maniera poi però come è successo anche per il covid adesso abbiamo visto che senza le visiere in plastica le mascherine queste cose qua non si andava avanti era la cosa più facilmente lavorabile è utilizzabile in pochissimo tempo immagina se non ci fosse stata tutta questa perché poi l'alternativa qual è? è il vetro ma il vetro è pesante ha avuto ha delle problematiche anche diciamo di sicurezza di queste cose cioè non ho detto noi come come esseri umani dobbiamo imparare a utilizzarla bene Polito ti ringrazio per il tuo tempo per il il tempo che ci hai dedicato per i pensieri che hai condiviso con noi per i tuoi punti di vista sul sul mercato e sul sul futuro spero di vederti presto dal vivo a Roma o insomma al prossimo evento a cui parteciperemo insieme vi saluto anch'io a tutti voi spero che anche voi stiate tutti bene visto anche che state nella situazione diciamo nella regione più colpita però vi faccio tanti in bocca al lupo a tutti voi ciao carissimi grazie